Senza della letta ci sono i fondi per assumere 8.000, 9.000, 9.000, i poliziotti, i vigili del fuoco e uomini e donne della guardia di finanza. Una buona quantità di questi arriverà in Toscana e anche a Prato perché qua c'è la letta. Un sistema di concorrenza sleale da andare a smantellare. Di questo stiamo parlando. I capannoni alveare non sono degni di un paese civile. Qua all'imprenditore o all'artigiano italiano si va a controllare anche l'ultima, giustamente, delle uscite di sicurezza, l'ultimo scontrino rilasciato. Vedremo di lavorare con la prefettura che si è dimostrata molto efficace in quest'opera di legalità. Anche un controllo sistematico di tutto quello che è il commercio e l'industria abusiva che non rispetta nessun tipo di legge. E per rispetto degli imprenditori italiani e stranieri.